Grazie Ignazio, la russa, Luca Serafini, fate pace Sì, infatti volevo dedicare un pensiero a chi durante la pandemia ha perso il lavoro, ha perso un parente, ha perso un amico, non una partita di calcio Buonanotte Buonanotte, è bravo, è bravo, però è bravo Vero Non esiste mai oggi, no Porta Milan Buonanotte Buonanotte